Al vertice di Newport la Nato ha deciso di fornire equipaggiamenti e consiglieri militari alle truppe ucraine. Il presidente ucraino Petro Poroschenko lo ha appena rivelato, mentre si susseguono notizie di violazioni del cessato il fuoco nell'est del paese. Il bilancio sarebbe di almeno un morto e quattro feriti fra le zone di Donetsk e Mariupol. Cinque paesi dell'alleanza atlantica si sono dichiarati disponibili a inviare materiale, fra loro anche l'Italia, mentre la Russia esprime preoccupazione, per i civili sembra svanire il breve sogno della pacificazione. Non so perché, ma il cessato il fuoco non c'è e probabilmente non ci sarà mai. Ci avevano promesso una tregua, ma non ce la daranno mai. Non so, non ho parole per esprimere quello che penso del governo di Kiev. Non so come definirli, sono dei barbari. La zona in cui si concentrano i combattimenti è sempre la stessa, fra lo scalo aereo a nord di Donetsk e il porto strategico di Mariupol. Eppure tutto era cominciato bene nel solco dell'accordo di Minsk con le forze separatiste filorusse che avevano cominciato il rilascio dei prigionieri, almeno due soldati. Le violazioni del cessato il fuoco, però fisiologiche all'inizio di ogni processo di pace, sembrano moltiplicarsi invece che ridursi.